e no ragazzi così troppo facile prima di arrivare qua facciamo un passo indietro ragazzi finalmente mi è arrivato il mio ordine della gold steel famosissima azienda dedicata alla produzione di coltelli utensili più resistenti e affilati al mondo vi anticipo subito che in questo video sarete voi a dirmi tramite i commenti il prodotto che volete che recensisca per primo infatti il prodotto che prenderà più voti nei primi dieci commenti sarà il primo ad essere recensito man mano poi tramite sempre la vostra classifica recensirò tutti gli altri ma basta perdere tempo e apriamo questo pacco subito dopo la sigla quindi ragazzi apriamo questo pacco insieme ecco il primo prodotto ragazzi 1 2 man mano li usciamo e poi ve li mostro tutti insieme ragazzi ecco la situazione dopo aver uscito i prodotti dal pacco come vi ho anticipato a inizio video non vi farò oggi una recensione perché voglio che siete voi a dirmi quale prodotto volete che io recensisca per primo tramite i commenti quindi vi raccomando scrivete nei commenti il prodotto che volete che recensisca per primo oggi ve li mostrerò solamente più nel dettaglio vi anticipo solamente che questi due coltelli della gold steel sono i migliori coltelli per rapporto qualità prezzo e si potrebbero definire anche economici ma ovviamente stiamo parlando di coltelli di qualità iniziamo subito con questo questo è il bushman bowie ok molti già lo conoscono perché è un coltello comunque abbastanza famoso e un coltello di qualità questa è la confezione in cui ci arriva e oggi lo apriamo insieme quindi apriamolo come vedete anche confezionato abbastanza bene ok in questa mano ho messo il guando così posso appoggiare anche la lama diciamo più in sicurezza guardate già che bella anche il fodero è abbastanza di qualità guardate che bello c'è anche un acciarino una volta aperto ragazzi ecco qui il bushman bowie guardate che bellezza questo coltello io lo definisco un coltello ignorante e poi capirete il perché questo che vedete del grasso che la gold steel mette direttamente per proteggere comunque il coltello e la lama soprattutto e poi guardate anche bello che il logo proprio il logo del della gold steel questo proprio c'è scritto bushman e questo manico ragazzi questo manico magari molte ci arriverete a che cosa serve ma poi nella recensione vi spiegherò esattamente a cosa serve quello che vi dico ragazzi che un bellissimo coltello e per il prezzo che costa varrebbe molto molto di più quindi questo è il primo prodotto ok che vi ho mostrato dentro il pacco passiamo a un altro famosissimo coltello questo già dalla confezione avete visto che cosa era questo ragazzi sicuramente vi sta avvenendo la curiosità e ve lo dico subito che cos'è guardate ok stiamo parlando dell'Srk k5 però l'ho preso in versione tan questo ragazzi il coltello più famoso per la sopravvivenza ma anche per il bushcraft e anche per tutte quelle attività all'aperto arriva sempre confezionato bene questo comunque il fodero guardate comunque sempre anche i foderi che sono abbastanza belli ma passiamo direttamente a lui guardate quindi anche come sono confezionati si vede dei prodotti di qualità e si ragazzi ecco l'Srk k5 guardate macchiato sempre ovviamente cold steel l'ho preso in versione tan perché ripeto a dire lo ritengo anche più bello esteticamente questo ragazzi c'è una lama micidiale un coltello che troverete su internet un sacco di recensioni però ragazzi ripeto a dire manca la mia recensione che possibilmente vi può tornare utile quindi ragazzi su questo coltello è davvero fantastico questo è un coltello eccezionale durante la recensione che poi faremo possibilmente sarà il vostro primo prodotto che volete recensito vi mostrerò esattamente la bellezza e perché questo srk5 è così famoso e ripeto ragazzi sono coltelli davvero davvero eccezionali e di qualità lo mettiamo all'interno del suo fodero ok quindi sentite proprio si aggancia alla perfezione e in più c'è la possibilità di chiuderlo in questa maniera abbiamo l'Srk5 quindi lo metteremo direttamente qua sopra e questo nel frattempo facciamo la stessa identica cosa così decidete ragazzi nel frattempo commentate ok ve lo torno a dico i primi dieci commenti il prodotto che prenderà più voti sarà il primo a essere recensito e poi ragazzi parliamo di questo ok di questo bel seghetto della due cigni prettamente italiano ok che ne parlano non bene ma super bene di questa famosissima casa ok guardate già che bella lunghezza guardate che design bello e soprattutto grande ragazzi con questo possiamo tagliare tronchi anche abbastanza grandi ovviamente marchiato due cigni e questo ragazzi vi assicuro che con questo le nostre uscite soprattutto per il bushcraft quando andiamo a costruire a tagliare qualcosa ci tornerà davvero utile quindi ragazzi questo è il terzo prodotto ripeto ragazzi non vi sto dando informazioni più nel dettaglio perché le faremo durante poi le recensioni questo ragazzi il la fila coltelli della work sharp ok come vi ho detto è una fila coltelli una volta aperto poi vedremo se realmente vale la pena come a fila soprattutto questi coltelli essendo che è portatile ma vi assicuro che tornerà molto utile soprattutto in quei coltelli dove il filo si sta perdendo e lo vogliamo diciamo ravvivare velocemente ed infine ragazzi l'ultimo prodotto ma non meno importante ok questo bellissimo ok è sempre un giocattolino ma non è così questo fornelletto portatile ok infatti si chiama il mini cooker è ottimo e scopriremo poi quale sono le sue funzioni di un prodotto così piccolo ma vi assicuro dall'uso davvero eccezionale quindi ragazzi come avete visto questi sono tutti i prodotti e sarete voi a dirmi nei commenti qual è il prodotto che volete che recensisca per primo vi raccomando intanto lasciatemi un bel mi piace e nei commenti ditemi qual è il prodotto che volete che recensisca per primo tutti gli altri commenti si creerà una sorta di classifica e man mano inizierò dai prodotti più votati fino ad arrivare all'ultimo prodotto quindi ragazzi spero che questa unboxing vi sia piaciuta e che cosa dire ci vediamo al prossimo video